Ma Rimini è una città che sta cambiando, riparte dalle fondamenta, è stato un lungo lavoro, duro, le fondamenta si chiamano interpretare il cambiamento, si chiamano non fare sopra ma fare sotto, si chiamano fogne, si chiamano motori culturali al posto del mattone, si chiama mobilità, noi completeremo le rotatorie sulla Statale 16, tutti gli investimenti, gli interventi che sono stati fatti per collegare la fiera Miramare, si chiama il sociale, 6-7 mila persone che affianchiamo nei loro bisogni, pagare le bollette, l'affitto, le case, il lavoro, ma una Rimini che cambia, cambia anche sulla frontiera della civiltà, dell'essere una città europea dove i diritti civili sono pienamente affermati e praticati. Da tanto tempo la città aspettava una sala del commiato, un tempio crematorio, un luogo, un'infrastruttura che è capace di accogliere un momento delicato della vita dove qualcuno se ne va e oltre ai riti religiosi che sono nella nostra cultura italiana c'è anche una dimensione civica di riti civili che le persone devono avere per accompagnare nell'ultimo saluto i propri cari. Oggi Rimini si dota di una sala del commiato, di un tempo crematorio, a servizio di questa comunità Rimini solidale, civile, frontiera piena di una città aperta e inclusiva.